Con la visita alla Sigrot di Interbrook si è concluso il viaggio studio in Austria di 70 studenti di 12 istituti superiori del Piemonte. Del 27 al 30 aprile le tappe principali sono state il campo di concentramento di Mauthausen, il memoriale di Gusen e le città di Vienna e Salisburgo. I giovani sono i vincitori del progetto di storia contemporanea promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione con le province e la direzione generale dell'ufficio scolastico regionale. Dal 9 al 13 maggio 65 studenti di 12 istituti superiori piemontesi in Bosnia e Herzegovina visitano alcuni luoghi simbolo del conflitto nell'ex Jugoslavia a 20 anni dall'inizio dell'assedio di Sarajevo. L'itinerario prevede tappe a Mossar e a Tusla, a Srebrenica, in clave teatro del genocidio, con visita al museo di Potocari all'edificio ex sede dei caschi blu dell'ONU, a Sarajevo con l'ingresso al museo del tunnel dell'assedio.